Ciao a tutti, come dal titolo e dall'anteprima questo è un video di organizzazione barra cancelleria nello specifico vi voglio fare vedere l'agenda del 2020 che ho acquistato su Amazon l'inquadratura mi sembra essere abbastanza buona per questa tipologia di video iniziamo subito allora questa è un'agenda del 2020 che parte dal gennaio fino appunto a tutto il 2020 della marca box clever press io l'ho acquistata su amazon io sono cliente amazon prime quindi è arrivata effettivamente in meno di 24 ore in realtà l'ho pagata 12 euro e 99 13 vi metterò il link nel box informazioni specifico che il mio è un link affiliato allora partiamo un attimino dall'origine nel senso io in realtà avevo già un'agenda per il 2020 perché lo scorso anno avevo acquistato riacquistato in realtà questa agenda della muci che è sull'onda del dell'obonici c'è un video dedicato che ha una dimensione circa a 5 che come le mole skin che utilizzo da anni hanno la sono fatte in questo modo su una pagina c'è la settimana in verticale sull'altra c'è una pagina libera per prendere appunti vi faccio intanto vedere la dimensione di questa agenda che è un a 5 quindi come vedete è pressoché identica manca un filino qui considerando che però questo ha la sovracopertina diciamo così ovviamente è un pelino più grande che però questa agenda qual è stato il problema finisce a giugno quindi avevo bisogno di qualcosa per completare l'anno e ho capito che io ho bisogno di un agenda che va da gennaio a dicembre prima ancora utilizzavo questa agenda qua della moleskin o moleskin chi lo sa che come vedete la moleskin non è una 5 preciso perché ha dei suoi formati tra virgolette particolari quindi leggermente più stretta sempre strutturata nello stesso modo c'è una pagina settimana su una pagina in questo caso un foglio e righe dall'altra avevo quindi necessità di acquistare un agenda che partisse da gennaio che terminasse a dicembre scusate in sostituzione di un'agenda che partisse da luglio agosto fino almeno a tutto il 2020 e un po' per fretta un po' perché esteticamente questa mi ha colpito da subito ho acquistato questo diario sempre settimanale della legami legami scusate c'ho sempre questa botta del così che punto va da luglio del 2019 tutto al 2020 ho scelto rispetto ai miei standard un modello più piccolo perché ritenevo che dopo la laurea insomma in questo periodo potevo provare a passare a un'agenda un pochino più piccola e leggera da tenere in borsa perché l'agenda viene sempre con me e anche questa è strutturata nello stesso sistema ovvero ha la settimana su una pagina e un foglio a righe dall'altra ho capito che questo format adesso non è più completamente ideale per me al tempo stesso non riesco a per una serie di motivi a tenere il bullet journal in maniera continua e quindi avevo bisogno di di altro in più al di là della dimensione di questa agenda questa agenda per quanto mi riguarda una serie di difetti che non me la rendo assolutamente pratica quindi di fatto stavo praticamente sclerando e ho dovuto mi sono messa la ricerca di qualcos'altro poi vi farò un video in cui vi parlo dei motivi per cui questa agenda non ha fatto assolutamente al mio caso tra le varie opzioni mi ero assolutamente fissata che volevo un'agenda settimanale perché ho bisogno della vista settimanale per quanto riguarda la mia agenda personale mentre per l'agenda di lavoro che ho una legame con cui mi trovo da dio mi serve una giornaliera e mi ero fissata dopo anni in cui ho odiato l'idea della visione del giorno in verticale cercavo invece un'agenda che avesse la visione settimanale verticale allora la copertina è bella rigida come vedete è un interzio molto carino di questo tipologia del 2020 con questa struttura c'è solamente questa fantasia quanto meno su amazon ha due nastrini segna pagina ha il suo portapenna in elastico e l'elastico per chiuderla adesso preparatevi perché è veramente deliziosa e oltre a che essere esteticamente molto bella ovviamente a mio gusto trovo che come sia strutturata internamente sia non dico perfetta ma veramente utile per quello che ho in mente di cui ho bisogno di tracciare adesso l'interno ha questo decoro fantasia secondo me stupendo che si ripete in maniera ancora più accurata e particolare alla fine dove ha la classica taschina porta fogli tra l'altro vorrei farvi vedere questo dettaglio della taschina che ha una plastichina o comunque un carticino plasticato rinforzato che è molto più resistente della classica per lo meno al tatto a vista della classica tasca in cartone che hanno le Moleskine o altre gende successivamente cosa succede? si apre il primo foglio dove c'è questa avventura del 2020 queste avventure sono di quindi la pagina con i dati personali poi c'è il 2020 tutto quanto riassunto su una pagina e mi piace tantissimo che siano evidenziati i sabati e le domeniche poi gli obiettivi sogni divisi per mese con delle righe puntinate dove qui ovviamente si possono scrivere anche scadenze quindi al di là del discorso eventuale e motivazionale può essere utilizzato ovviamente con più scopo poi c'è una pagina, scusate, due pagine dedicate ai progetti per il 2020 con una visione annuale dove ogni riga contiene sei mesi verticale puntinato il planner dei grandi progetti a livello di dettaglio passo per passo quindi volendo darsi dei micro obiettivi nell'ambito di un grande obiettivo e ce ne sono due o quattro pagine poi c'è la settimana la prima visione settimanale che in realtà è l'ultima settimana di dicembre quindi va dal 20 al 29 e questa struttura sarà la stessa per i mesi del 2020 ovvero tutto a sinistra che cosa abbiamo? abbiamo una to-do list, quindi gli impegni della settimana le cose da fare durante la settimana l'obiettivo della settimana diviso in tre e qualora vogliamo prefissarci qualcosa di specifico il riassunto del mese di riferimento quindi qui c'è tutto dicembre e la settimana in verticale divisa in tre sezioni un po' come la Condren, se non ricordo male che si può fare mattina, pomeriggio, sera piuttosto che dividere gli impegni della famiglia piuttosto che fare sezioni come può essere casa, lavoro, impegni personali io una sezione di queste vorrei utilizzarla che era uno dei motivi per cui cercavo anche la visione verticale per la pianificazione dei pasti perché ormai mi viene comoda tenerla sulla mia agenda personale successivamente c'è il mese che è il mese di gennaio con le caselle rettangolari non è vero, quadrate e classiche anche qui viene sempre evidenziato il sabato e la domenica cosa che per me a colpo d'occhio è fondamentale e anche qui una piccola sezione dedicata alle note da dedicare al mese che può essere utile per mettere degli obiettivi o delle scadenze mensili e spalmarli nell'arco delle settimane successivamente ci sono una pagina dedicata ai progetti di gennaio e qui capite perché anche ci sono due segnalibri perché potete avere un segnalibro sulla settimana corrente e sulla visione mensile piuttosto che sulla pagina dedicata alle spese perché visto che se tutto va bene ci sarà qualche cambiamento o qualcosa vorrei cercare di tracciare meglio le spese che andrò a effettuare i prossimi mesi poi anche qui ovviamente si può anche utilizzare per altro ma questo è sempre un altro discorso e appunto diventa poi la visione delle singole settimane del mese strutturata come abbiamo visto come abbiamo visto prima questo riquadrino della colonna essendo comunque personalizzabile nasce nelle agende classiche preimpostate dove si mette l'orario 8, 9, 10, 11 e via dicendo se invece qui si vuole riportare un altro tipo di divisione piuttosto che pomeriggio, mattina, sera ovviamente ci si regola da sé questo si ripete per tutte le settimane la carta è una carta che al tatto è bella spessa sembra essere resistente quindi dovrebbe riuscire a non dare problemi utilizzando eventuali evidenziatori o penne in gel perché io non sempre utilizzo solamente la Biro ogni mese ha un suo colore e decorazione la decorazione forse è abbastanza standard che è quella che richiama la copertina non mi ricordo se vi ho fatto vedere al retro comunque ecco si ripete in tutti quanti i mesi della settimana certo i mesi della settimana per tutti quanti i mesi dell'anno adesso vi faccio vedere la fine perché siamo a dicembre del 2020 l'agenda termina il 30 dopodiché ci sono due pagine puntinate per note e liste due pagine per note e progetti di Natale un'altra pagina di note e liste e poi c'è una pagina di obiettivi e sogni per il 2021 io vorrei farvi vedere come ogni esagono più o meno perché un esagono irregolare ha la sua fantasia i progetti per il 2021 che può anche essere utile da utilizzare a modifutorlog e poi c'è una lista una lista di siti web importanti una sezione di numeri utili qui ci sono delle sezioni fisse come potete vedere asilo nido parrucchiera assicurazione casa dottore e via dicendo e delle linee libere dove voi potete inserire quello che volete e poi c'è come all'inizio la visione annuale però per il 2011 la quarta di copertina e l'agenda finisce quindi al momento sono veramente molto soddisfatta spero che questo video vi sia utile fatemi sapere cosa ne pensate di questa impostazione di questa marca ovviamente troverete anche agende giornaliere e agende impostate diversamente io sono contenta perché con una spesa minima perché la legami mi era costata anche lì sui 12-13 euro che è sempre legami niente c'ho sta cosa Sadomasuki sta incontrollata di cui ignoro perché non lo sono comunque niente è arrivata imballata all'interno di una plastichina che l'ha protetta e ah ecco gli ultimi due dettagli qui c'è scritto 2020 e una cosa molto carina che non mi ricordo se vi ho fatto notare è che ogni mese mi sa che con questa luce non riesco comunque da qui si può arrivare in qualche modo a segnare il gennaio febbraio il mese perché è fatto che ogni mese oltre ad avere un colore diverso è ad un'altezza diversa quindi ad agenda chiusa se da questo è gennaio questo è dicembre e in qualche modo riesco un minimo a risalire al mese ad aprire la pagina per il momento è tutto spero che questo vi sia stato utile ci sentiamo nei commenti e al prossimo video ciao ciao